Ok, prima di guardare questo video, questo breve video, iscrivetevi al canale, lasciate poi alla fine del video commenti, condividete, iscrivetevi premendo sulla campanellina, attivate le notifiche e godetevi questa breve storia. Ma prima, sigla! Ciao ragazzi e bentornati a tutti, io sono NovaElectric e oggi vi racconterò un aneddoto che è successo, una cosa molto bella. Allora, partendo, come vi ho detto a breve, vi ho detto che cambierò telefono, ho già fatto l'ordinazione e non vi spoilerò niente perché pensavo di fare un video dell'unboxing quando mi arriva. Quindi scoprirete cos'è, voi lasciate nei commenti secondo voi cosa ho preso, che modello ho preso, se iPhone o Samsung o Android, Apple, fatemi sapere secondo voi cosa ho preso e vediamo chi ha ragione. Allora, praticamente, dava segni al mio cell di non andare bene con la batteria allo schermo e me l'ha confermato oggi spegnendosi definitivamente. Quindi, mi arriverà tra il 2 e il 5 in teoria e quindi sono un paio di settimane senza, quindi non posso vedere i vostri commenti oppure per quelli che hanno il mio numero Whatsapp non potrò scrivergli immediatamente, non potrò rispondergli perché, diciamo, sono per adesso senza cella. Quindi, vi farò, appena mi arriva, vi farò un video dedicato all'unboxing e alla sua prima accensione e magari anche ci metto il download delle app e vi metto sotto magari tutte o alcune app che ho inserito e quindi per il resto è tutto. Altra cosa, tra poco editerò altri due video nuovi, forse domani o nei prossimi giorni inizierò ad editarli, ci vorrà un po' perché sono un po' lunghetti e devo fare parecchi tagli e parecchie modifiche. Quindi, diciamo che per questo episodio è tutto, ho dimenticato altro, no, mi sembra di no, comunque fatemi sapere nei commenti secondo voi che modello ho preso e vediamo chi ha ragione. Ok, vediamo la maggioranza magari che vince. Ok, poi magari andremo a scoperta insieme delle varie funzionalità che ha il telefono. E ovviamente dopo nei commenti chi indovina il telefono, magari se ce l'ha anche lui, mi dà una mano con dei consigli su come funzionano alcune funzioni, tipo questo funziona così, la camera funziona così, i messaggi così, non so. Come funzionano le impostazioni, le varie, diciamo, le impostazioni segrete che ci sono, ok. Quindi, per questo video è tutto, io vi lascio, vi ricordo di iscrivervi, guardare i video fino in fondo, iscrivervi, commentare, lasciare like se questi video vi sono piaciuti, farmi sapere cosa ne pensate e il resto è tutto, un saluto da tutti e tante, ciao! Grazie a tutti!